Le strade hanno le buche, le chiediamo ai ciclisti anziché riparare le buche. È una follia e noi protestiamo contro le follie. La provincia dell'Aquila diventa una provincia off-limits. Non possono venire in provincia dell'Aquila coloro che amano fare turismo, andare sulle strade abruzzesi, vedere la bella natura che abbiamo. Molte le società ciclistiche che hanno voluto partecipare alla protesta contro la chiusura delle strade provinciali a ciclisti e motociclisti. Decisione presa dal dirigente della provincia Bonanni. a causa della presenza di molte buche. La protesta nasce per spiegare che non serve chiudere le strade, ma semplicemente ripararle. Siamo qui per far vedere innanzitutto che le strade, qualora fossero danneggiate, sicuramente possono essere percorse perlomeno dalle biciclette. Le strade danneggiate hanno un limite in quanto è pericoloso se percorse ad alte velocità. L'alta velocità chiaramente non è un concetto compatibile con la bicicletta e dunque penso che sia un controsenso interdire il transito alle biciclette in ragione della cattiva manutenzione stradale. I ciclisti percorreranno proprio queste strade provinciali, partendo dalla Guardia di Finanza dell'Aquila, per arrivare nelle zone di Capitignano e Campotosto. Zone altamente frequentate dai ciclisti, non soltanto aquilani. Questo è un problema sicuramente, che questo territorio sia martoriato e a conoscenza di tutti, ma io quello che mi preoccupa è il futuro, è come l'Italia intera vede la regione Abruzzo e la provincia dell'Aquila soprattutto.